è stato bravissimo è stato bravo dai Ale è un mostro particolare particolare gusto non potete è andata da Belga molto molto bene tranquilla lì è fallito anche Alessio forza Ale dai Ale ancora 25 minuti di gara per questa open maschile Belga ancora qualche buon tocco tra un po' sono 6 anni però si è fatta male dopo un anno le ultime prese oh Dio sono Beano per la vostra ho reno tocco ho so po' ho reno in questa è un po' di minuto da un po' di bene da un po' di sinistra 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 forza Ale tanto e Ale è un po' di sinistra che è un po' di sinistra con ancora in azione la battaglia ancora aperta pulizia obbligatoria due rosa adesso che la magna esiste è anche la lunga passaggio di 60 e niente a sentirsi da pudore adesso chi vuole giocarsi in blocco è un po' di sinistra e gli affiditi soprattutto con la placca appoggiandolo poca resina se ne ia e ad aspettare magni e piedi quasi 60 ragazze che si stanno facendo l'uncio e un applauso per la legge un po' di sinistra grazie a tutti